La parola il Ministro dell'Interno, Consigliere di Stato Luciana Lamorgese. Signor Presidente, invitati tutti qui presenti, un grazie per essere qui con noi. La cerimonia di oggi ci riporta con la mente allo sgomento di quello 23 maggio di circa 30 anni fa. L'inaudita ferocia con cui venne cancellata l'esistenza di donne e uomini dello Stato lasciò il nostro paese nello sbigottimento, seminando angoscia e dolore. Fu un colpo durissimo inferto alla democrazia ed è una ferita ancora aperta per la comunità nazionale e per le famiglie delle vittime. La Sicilia diventava lo scenario di un attentato terribile dopo le uccisioni che avevano visto cadere negli anni precedenti tanti capaci e fedeli servitori dello Stato. In un lungo e luttuoso elenco che parte della nostra memoria collettiva. Le istituzioni e la società che sembrava smarrita di fronte all'agghiacciante attacco delle stragi mafiose reagirono con determinazione e lucidità. L'eccidio di Capaci si rivelò, come ebbe a dire il Ministro della Giustizia in carico a quei tempi, il peggior affare che avessero potuto concepire i capi della mafia corleonese. Molti di essi furono arrestati, processati, condannati, decidendo così una delle più sanguinarie espressioni della criminalità organizzata che l'Italia repubblicana ricordi. Davanti a noi abbiamo, tra poco scopriremo, i resti della Quarto Savonà 15 e il nome in codice della vettura in cui viaggiava la scorta di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo e che aveva a bordo Rocco di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani. Il groviglio di queste lamiere di fronte a cui ci inchiniamo non è il simbolo di una sconfitta, come avrebbe voluto la disumana, ferocia mafiosa. Tutt'altro rappresenta il principio di una grande pagina di riscossa civile. Abbiamo saputo trasformare il dolore in indignazione, la paura in coraggio. Contro la mafia non è in sorta soltanto la mano della giustizia, non sono stati soltanto anni di estrenuo contrasto alla criminalità organizzata da parte delle forze dell'ordine. La strage di Capaci ha segnato l'inizio di una rivolta civile contro la subcultura mafiosa e le sue lusinghe, uno scatto di ribellione contro l'opprimente morsa criminale e la sua pretesa di ergersi ad antagonista dello Stato. È nato da quel sangue versato a Capaci, un paese più consapevole della mortale gravità del pericolo mafioso. La criminalità organizzata è stata considerata da quel tempo, anche dalle nostre leggi, un'insidia e una minaccia non inferiore a quella portata dal terrorismo al cuore dello Stato. Il fiorire a Palermo, in Sicilia e poi in tutto il paese di iniziative animate dall'intento di dare voce all'Italia onesta, fiera della sua rettitudine e del suo ripudio della mafia, rappresenta senza dubbio il frutto più maturo di una coscienza civile di cui dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo oggi organizzazioni, fondazioni, associazioni che si battono in vari campi con le armi pacifiche del diritto per una società finalmente libera dal ricatto mafioso. Nate per moto spontaneo, sono realtà che esprimono un attivismo solidale in cui si manifestano in maniera limpida i valori profondi della nostra Costituzione. Il più grande segnale che si possa dare alla criminalità organizzata è farle percepire con nettezza e con forza l'inarrestabile prosciugamento del consenso popolare su cui riposava il suo contropotere e dunque colpirla nella sua illusione di eternità. È una battaglia di civiltà, anche quella di assistere le vittime di mafia, farle percepire la nostra concreta solidarietà, aiutarle a venire fuori dal grave disagio in cui versano e sottrarle così all'isolamento in cui sarebbero destinate e che le renderebbero doppiamente vittime. Penso anche alle donne delle famiglie mafiose che vogliono sottrarre i loro figli e se stesse dall'ambiente omertoso che le circonda e che hanno bisogno del nostro sostegno per guadagnare la speranza di un futuro diverso. È una strada lunga che non ammette scorciatoie, la stricata da difficoltà di fronte alle quali non dobbiamo sentirci impotenti, dobbiamo rimanere tutti uniti e così riusciremo a percorrerla fino in fondo senza che nessuno venga lasciato solo. Signor Presidente, e la rappresenta l'unità nazionale, la sua partecipazione a questo evento è un messaggio di solidale coesione del Paese che si stringe attorno e vicino alle sue vittime e ai loro familiari. È il modo più intenso e solenne con cui le istituzioni e la società civile rinnovano unite in sua presenza il comune impegno perché i valori di libertà e di giustizia, di pace, di uguaglianza che sono il lievito della nostra convivenza non restino sottratti all'oltraggio delle masse. Grazie.